Amici del SoftLibroPensource, benvenuti o bentornati in questa 182esima puntata del Podcast di Marcos Box a commentare con voi come sempre le principali notizie del mondo del SoftLibro in questo caso delle ultime due settimane appena trascorse purtroppo ci sono alcuni stravolgimenti in corso all'interno della mia vita quindi la puntata della settimana scorsa non sono riuscito a registrarla e quindi si è accumulato un po' di roba, anche se non tanta perché il tempo ultimamente è tirannosaro e quindi non riesco a pubblicare tante cose sul blog come vorrei ma comunque ci sono degli argomenti e sono argomenti anche belli cicciosi poi ci sono anche due nuovi articoli, uno a firma di Luca e l'altro a firma di Andrea che poi andremo a vedere più avanti che sono articoli che riguardano due distribuzioni che attenzionate, diciamo così, da parte di voi lettori ma andiamo con ordine e apriamo con la prima notizia della settimana ovvero una videoguida, perché di fatto è quella, che ho postato su un software chiamato LocalSend che consente di scambiare facilmente file tra computer e smartphone e viceversa senza cavo ma appoggiandoci direttamente alla rete wifi di casa, di ufficio, dove diavolo stiamo insomma è un'applicazione gratuita, open source e multiplattaforma ed è disponibile per Windows, Mac OS, Linux, iOS e Android andate a vedere la video recensione di LocalSend che ho postato sul canale YouTube di Marcosbox al quale vi invito ad iscrivervi numerosi in modo tale da andare a dare un'occhiata a questo fantastico software che vi consente di risparmiarvi tanti sbattimenti ed è molto più funzionale rispetto a KDE Connect questo fa soltanto una cosa e la fa davvero bene fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo software se lo utilizzate, se lo avete scoperto grazie a questo video insomma, parlatemi un po' nei commenti è stato postato poi un altro video sulle pagine di Marcosbox dove diavolo sono andato a mettere, eccolo qua che è anche questa una video recensione riguardante un software un software ovviamente commerciale a pagamento che consente di doppiare i nostri video mediante l'intelligenza artificiale il software in questione, o meglio i servizi in questione è RASC AI che è un'intelligenza artificiale che fa praticamente un vero e proprio miracolo noi basta che gli diamo in pasto un video un video qualsiasi che noi abbiamo girato e lui provvederà a fare la traduzione con la nostra stessa voce di questo video e tante sono le lingue disponibili e a detta di chi ha sentito questi video e magari è anche esperto di questa lingua hanno delle pronunce che sono altamente credibili quindi sono i vantaggi dell'intelligenza artificiale applicati ai modelli linguistici che riescono a fare dei veri e propri miracoli fra l'altro nel video vi faccio alcuni esempi di traduzione di un precedente video che avevo postato sul blog e ho fatto con la traduzione con l'inglese, con il francese e con il tedesco se è possibile se vi abbonate al servizio quello commerciale, quello a pagamento è possibile anche avere la sincronizzazione del gabbiere quindi è una cosa fantastica se lo vedete quando lo provate per la prima volta rimarrete a bocca aperta purtroppo, ripeto, purtroppo sottolineo tante volte questa versione di Rascarin la versione base quella che ci danno per provare è molto limitata non abbiamo tanti crediti e possiamo fare poche cose però ci sta ci sta che un servizio di questo tipo sia, almeno nelle fasi iniziali a pagamento e abbia anche dei costi abbastanza sostenuti che servono a ripagare lo sforzo degli sviluppatori fatemi sapere voi se avete provato Rascarin o magari se avete provato qualche altro servizio che consente di fare la stessa cosa di traduzione del parlato con l'intelligenza artificiale mantenendo la nostra stessa voce lasciando un commento sulle pagine del blog o magari sotto al video infine ho postato per un video un po' particolare mi era stato linkato da parte di un amico un video di un utente che aveva provato a rendere in formato video la ISO di Arch Linux e ho detto qua bisogna ristabilire l'equilibrio nell'universo e ho deciso di fare la stessa cosa con l'ISO di Debian 12.5 la versione quella Nettistar la prima che avevo sotto mano come si fa a rendere una ISO un file in generale in un formato audio video ve lo spiego all'interno del post che trovate perché vi faccio vedere qual è la stringa che ho utilizzato con FF MPEG per poter tradurre la ISO in un video anzi in un video compreso di audio perché non è soltanto un video e il risultato è quello di i video di questo tipo di vecchie devisole con tanti pixel tutti colorati e suoni di varia natura e direte voi perché l'hai fatto e ve lo ripeto l'ho fatto perché per ristabilire le rotine naturali delle cose perché se no c'è soltanto il video sulla ISO di Arch Linux no e dobbiamo ristabilire anche il mondo l'equilibrio nel mondo con la controparte Debian e fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa cosa se la trovate interessante o se la trovate una inutile perdita di tempo come è stata fatta in alcuni commenti però è carina è un esercizio di stile diciamo così e passiamo adesso alle notizie quelle un po' un po' un po' che non fregano praticamente nessuno la prima riguarda il rilascio di VMware Fusion Pro e VMware Workstation Pro in formato gratuito da parte di di VMware VMware è stata acquisita recentemente da un altro soggetto e ha iniziato a ha deciso di fornire gratuitamente le versioni pro per l'utilizzo personale di questi suoi software è stata acquisita da Broadcom questi software servono per poter diciamo così emulare sulle nostre macchine tramite macchine virtuali altri sistemi operativi i software sono straconosciuti strautilizzati straapprezzati e fa piacere che vengano rilasciati nella versione pro in maniera gratuita perché fino adesso avevamo soltanto WMR quello il player quella la versione quella castrata diciamo così fatemi sapere se utilizzate anche voi questo tipo di software e passiamo ad un'altra notizia questo è un piccolo spazio pubblicità passatemi il termine vi ho visto che le sottoscrizioni di NordVPN sono leggermente calate con i link referral vi ricordo lo ricordo lo ricordo sempre a fine video ma ve lo ricordo anche in questo spezzone di puntata che se volete usufruire del servizio di NordVPN sul vostro sul vostro sul vostro computer sul vostro smartphone potete abbonarvi a NordVPN sia per rinnovare il servizio che per acquistare direttamente il servizio sfruttando il mio link affiliazione che trovate linkato nell'articolo dedicato sulla pagina di Marcosbox in modo tale da supportare il blog se potete se poi non veseva niente un servizio VPN solo il primo a dirvelo non lo acquistate però può essere utile in tanti in tanti modi può essere utile per acquistare biglietti per quanto riguarda le vacanze se vi è andato a fare vacanze per bloccare anche la pubblicità perché fa anche da filtro per la pubblicità anche su smartphone ci sono tanti casi di applicazioni con le VPN non soltanto quello classico quello classico che viene sempre propinato ci troviamo a connetterci su una rete poco sicuro utilizziamo la VPN ma potete utilizzarla anche per altri per altre cose guardare i cataloghi estri di Netflix di Disney Plus e quant'altro quindi è un servizio che ogni tanto fa bene utilizzare passiamo adesso a un'altra notizia notizia riguardante Ubuntu perché gli sviluppatori di Ubuntu hanno pubblicato alcune informazioni in merito alla prossima versione di Ubuntu Ubuntu 24.10 che è stata ribattezzata Oracular Oriole che è un cielo l'Oriole ne avevo parlato nelle precedenti puntate la prossima release semestrale di Ubuntu a quanto pare avrà criptografia hardware del disco basata su TMP miglioramenti del back end di App Center con l'aggiunta udito udite del supporto per l'installazione di debbi di terze parti finalmente si sono resi conto che era una cazzata non includere la possibilità di installare i debbi di terze parti mediante l'App Center quindi meno male che sono rinsaliti ci sarà poi la migrazione di Flutter dal GTK3 al GTK4 per migliorare sia le prestazioni che gli sostengono l'accessibilità avremo GNOME 47 e avremo Wayland per impostazioni predefinite in presenza di schede video Nvidia ci sono poi miglioramenti a sottosistema Windows per Linux con l'introduzione di nuovi strumenti per rendere più semplice proteggere gestire standardizzare le stanze di Ubuntu su Windows Subsystem per Linux e poi ci sarà un continuamento del lavoro su Ubuntu Core Desktop cioè quella versione di Ubuntu che prima o poi vedremo quella basata interamente sugli Snap queste sono le prime notizie riguardanti Ubuntu 24.10 vedremo nei prossimi mesi che cosa si aggiungerà al calderone che sembra che questa prossima versione di Ubuntu sarà interessante da smanettarci per sperimentare e passiamo adesso a un'altra distribuzione a Fedora perché Luca ha realizzato una nuova guida posti di installazione questa volta dedicata a Fedora 40 e sulla falsa riga delle guide posti di installazione che scrivo anche io quindi con i vari step che guidano passo passo su cosa fare per completare l'installazione su cosa aggiungere di repository come installare i codec e quant'altro insomma se siete utenti di Fedora e volete sfruttare a fondo la vostra distribuzione seguite questa guida per trovare una serie di consigli e trucchi che non fanno mai mare e c'è stato pure anche un altro articolo come vi dicevo all'inizio puntata di Andrea dedicato a una sua guida su come installare i repository di KQOS in Arch Linux KQOS è una derivata di Arch Linux che si propone di aumentare le prestazioni grazie a delle ottimizzazioni a kernel vari scheduler e alcuni pacchetti lui ha deciso di testare sulla sua pelle come potessibile utilizzare il tutto su Arch Linux e ha fatto una guida per le conclusioni vi rimando all'articolo completo non vi faccio spoiler se serve o non serve questa cosa passiamo poi infine all'ultime due notizie di questa puntata la prima notizia riguarda un down che c'è stato nella giornata del 23 maggio che ha riguardato i servizi di DuckDuckGo e così a Copilot chat GPT Plus e addirittura se non ricordo male anche TeamViewer è stato vittima di questo problema che cosa è successo è successo che c'è stato un down delle API di Bing che ha mandato K1 tutti questi servizi connessi quindi nella giornata del 23 non soltanto si sono avuti problemi nella ricerca di Bing proprio su Bing e nei servizi che fanno parte dell'ecosistema di Microsoft quindi Copilot chat GPT Plus e quant'altro ma questo bug ha impattato anche su motori di ricerca alternativi quindi DuckDuckGo e Cosia che sono stati letteralmente K.O. per diverse ore era impossibile effettuare ricerche e una cosa questa qui che mi ha dato molto da riflettere ancora una volta sul fatto che siamo troppo dipendenti da parte dei big del settore dell'informatica io questa cosa la ripeto sempre ad esempio nel caso dei browser web quelli basati su Chromium dove un bug una vulnerabilità critica su un browser basato su Chromium va a impattare su tutto l'universo dei browser tranne su Firefox e su Safari in questo caso un semplice bug delle semplice vabbè un down delle API di Bing ha mandato K.O. anche motori di ricerca che si dicono alternativi che spesso anche io ho sponsorizzato come DuckDuckGo che poi alternativi non sono alla fine sono browser che cioè scusate motori di ricerca che vanno a mettere qualche modifica però in solito la base di questi motori di ricerca è Bing quindi si basano sempre su lui si appoggiano sempre su di lui i risultati sono indicizzati grazie a Bing sono dei motori di ricerca con i piedi d'argica fatemi utilizzare questo termine e non mi è piaciuta questa cosa considerate in futuro l'adozione o meno di questi motori di ricerca utilizzarli magari con più coscienza perché sono soltanto ribrandizzazioni di Bing non vi danno nulla di stravolgente vabbè conclusa questa fase ultima notizia della puntata di questa puntata del podcast di Marcosbox riguarda una guida che ho realizzato una guida per i newbie che ho realizzato sulle pagine del blog l'ho chiamata introduzione ai sistemi operativi linux for dummies è una guida che cercherò nel tempo di mantenere aggiornate di aggiungere capitoli e quant'altro c'è il primo capitolo sull'introduzione e la nascita del progetto GNU di linux vi spiego che cosa sono le distribuzioni i principali desktop environment ad ogni distribuzione il suo formato di pacchetti quindi vi spiego i vari formati di pacchetti vi spiego che cosa sono i repository delle distribuzioni vi spiego come installare pacchetti i principali come è possibile installare da software center verso riga di comando quindi anche quali sono i vantaggi delle due vi spiego quali sono i comandi base per l'installazione dei programmi nelle principali distribuzioni linux e infine vi do anche qualche informativo che ne so i capitoli il capitolo dedicato ai principali alternativi penso sei programmi commerciali insomma ho cercato di fare un piccolo riassunto di tutte quelle domande che mi sono state poste nel corso degli anni da chi si avvicinava per la prima volta a un mondo di linux in una guida che cercherò di mantenere aggiornata per rendere il più esaustiva possibile ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 182esima puntata di podcast di marcosbox io come sempre vi ricordo che potete seguirmi sui principali social mi trovate su facebook mi trovate su x mi trovate su youtube mi trovate su principali piattaforme di podcasting mi trovate su rigantin con il mio profilo personale mi trovate su mastodon e ma soprattutto mi trovate su telegram con un canale principale dedicato alle notizie un canale che è collegato quindi con la community telegram di marcosbox nella quale potete commentare le notizie che di volta in volta posto sul blog ma potete parlare di tutto quindi non c'è un limite al chiacchiericcio su questo canale quindi anzi siete invitati a parlare anche di altre cose non soltanto di tematiche riguardanti linux e software libero in generale quindi potete parlare di tutto e siete incentivati a parlare di tutto e infine c'è un canale telegram dedicato alle offerte amazon al quale vi potete iscrivere e potete utilizzare per supportare il blog acquistando da uno dei miei link affiliazione di prodotti amazon potete supportare il blog se siete più pratici potete anche utilizzare il mio codice refera il macrosbox trattino 21 che trovate pubblicizzato sullo blog e come vi avevo detto a entrare in mezzo di puntata potete anche supportare il blog abbonandovi a nordvpn e vi faccio anche un altro spoiler a breve avete anche un altro modo di un altro vantaggio se leggete marcosbox perché mi sono messo in contatti con una società Rewar che vende computer aziendali ricondizionati sono tutti macchine top di gamma sono tutti macchine quindi i thinkpad e quantato quindi perfettamente compatibili anche con linux li ho contattati qualche settimana fa hanno deciso di prendere in considerazione la possibilità di offrire dei codici sconto per i lettori di marcosbox e la prossima settimana dovrebbe essere definito il tutto mi manderanno mi attiveranno i codici sconto e se volete potrete acquistare un computer da loro avendo un piccolo scondicino non è un link referral in questo caso perché io non ci guadagno niente l'ho fatto sono andato a contattare Rewar proprio perché credo nel loro progetto mi piace questo loro progetto e volevo offrire a voi lettori un qualcosa in più ecco questa ci concludiamo concludiamo questa puntata lunga vita e prosperità a tutti quanti ci rivediamo la settimana prossima con la prossima puntata del podcast di marcosbox ciao 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 ciao